Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 Luglio 87. Claudio De Rosa è tornato alla Cavese due anni e mezzo dopo. Proprio giovedì la società del presidente Alessandro Lamberti ha comunicato l'ingresso della bandiera del calcio metelliano nei quadri del club, in qualità di responsabile del settore giovanile. Sostituisce Mario Terracciano, che a sua volta aveva lasciato il sodalizio Aquilotto lo scorso 30 ottobre, per poi assumere l'incarico di direttore sportivo del Portici. De Rosa, che compirà 42 anni a breve, ha un passato di calciatore fino alla Serie C1. È stato un esterno offensivo molto prolifico in zona gol, tanto che nella Cavese, tra Serie C, Serie D ed eccellenza, ha totalizzato 106 reti, dato che fa di lui il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia degli Aquilotti. Ed è anche il calciatore con più presenze della storia della Cavese, 235, parecchie delle quali con la fascia di capitano. De Rosa è in possesso anche del patentino di allenatore di base e, prima ancora di chiudere col calcio giocato, aveva già provato a lavorare con i giovani nello stesso vivaio della Cavese. Era stato infatti tutor nella stagione 2020-2021 insieme a Russotto quando il club era iscritto alla Serie C. Si è quindi già cimentato nel trasmettere consigli ed esperienza ai ragazzi che si affacciavano al calcio. Il fatto che De Rosa sia tornato alla Cavese con una compagine societaria differente da quelle con cui aveva lavorato in precedenza testimonia della stima che anche gli attuali vertici del club nutrono nei suoi riguardi. Claudio, che ha un posto speciale nella nostra storia in quanto detiene il record di presenze e gol con la maglia della Cavese, metterà a disposizione dei giovani Aquilotti la sua esperienza, la passione e uno spiccato senso di appartenenza. Questo ha scritto la società Cavese in una nota diffusa alla stampa. E di fatti De Rosa è ancora molto amato soprattutto dai tifosi più sfegatati della Cavese proprio per motivi di attaccamento alla maglia bianco-blu, anche se adesso avrà l'onere di valutare l'operato di tecnici e calciatori del settore giovanile al quale dovrà dare anche una struttura. Numerosi i messaggi di auguri per Claudio De Rosa nel ricoprire il nuovo incarico da parte di ex compagni di squadra, altri ex calciatori, ex dirigenti ed ex politici. Dai Pasquale Scarlino ai Sergio Russo ai Cristian Piccirillo a François Cabangu, l'attaccante congolese che era stato compagno di squadra di De Rosa nella stagione 2013-14, per arrivare anche a Gerlando Contino, l'attaccante che in poche partite disputate arrivò a segnare 10 gol, alcuni dei quali proprio su assist di De Rosa. Grazie a tutti.